Prima tappa al Tennis Club Omenia del circuito TPRA che avrà le successive tappe a Giffa e a Trovaso. Insomma un circuito affascinante e tanta voglia di tennis possiamo dire nel nostro territorio. Abbiamo avuto un anno bellissimo con tantissimi giocatori. Siamo arrivati a più di 300 giocatori che hanno partecipato a una ventina di eventi che abbiamo organizzato in provincia. Ho soddisfatti veramente tanto di quest'anno. Abbiamo avuto grandi soddisfazioni soprattutto da parte dei giocatori con cui abbiamo instaurato anche un bellissimo rapporto di amicizia. In più nonostante la nostra provincia piccolina ha richiamato da altre province e da altre regioni parecchi giocatori durante l'anno. Parliamo di giocatori di alto livello sempre nel nostro circuito da Milano, da Torino, da Genova. Un circuito che ha numeri come diceva Cristian importanti e che dà un sogno la possibilità di essere parte attiva all'internazionale d'Italia. Sì, infatti è un circuito che dà la possibilità a gente normale, giocatori, quelli che diciamo giocano alla domenica la partita con l'amico invece di mettersi in un circuito che comunque ha delle regole, ha dei tornei, ha dei circuiti di sfide che possono portare anche a giocare in tornei importanti come l'internazionale d'Italia a Roma. Infatti il vincitore di questi campionati provinciali dopo passa a Torino ai regionali dopodiché a Roma a maggio durante l'internazionale d'Italia ci sarà un torneo riservato al TPRA che si svolgerà al Foro Italico. Giorgio, anche questo circuito denota l'ottimo stato di salute del tennis del VCO. Assolutamente sì, infatti oltre a tutti i vari tornei durante l'annata che sono giocati quest'anno anche un grosso torneo open di doppio a B, queste gare per tennisti di diciamo un po' più basso livello e anche non agonisti hanno avuto un ottimo successo con buonissima partecipazione e poi lo spirito è quello giusto dove poi ci si ritrova, si mangia insieme e si comincia a fare amicizia che è la cosa più importante.